Ebbene sì, passerò ai prossimi sei mesi in California, ma ora facciamo un passo indietro e spieghiamo tutto. Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Luca Borgianni e sono un triatleta. Su questa pagina porto vari contenuti sul mondo del triathlon e non solo, quindi sia consigli tecnici, consigli sulle gare, vlog, allenamenti e, insomma, se date una sbiaccia dal canale vedete tutti i contenuti che portiamo. Però, per chi già mi conosce, sa che non sono un triatleta professionista, ma nella vita faccio tutt'altro. Infatti al momento sono un dottorando in ingegneria all'Università di Pisa e quindi, diciamo, la mia attività principale è quella di ricerca e nel mio programma di ricerca sono previsti almeno sei mesi all'estero, quindi da spendere in una università fuori dall'Italia. E i miei sei mesi li spenderò all'Università di Stanford in California, negli Stati Uniti. Sono arrivato poche settimane fa e sarò qui per sei mesi, quindi fino alla fine di agosto. E per chi già mi segue sulla pagina Instagram ha già visto che sono qui e ha già visto anche immagini e video di strutture sportive in cui sono già stato, quindi per chi non mi seguisse, triathlon.italia su Instagram trovate sempre gli aggiornamenti in un tempo reale. Ma quindi la domanda è Luca, continuerai ancora a portare contenuti sul canale? Luca continuerai ancora a fare triathlon o fermi tutto? Allora, partiamo dal presupposto che non mi sono portato la bici da corsa dietro, però mi sono portato dietro la passione per il triathlon, quindi non credo che riuscirò a stare fermo. Infatti l'idea è di portare contenuti sempre sul mondo del triathlon, dello sport e ad esempio portare la giornata tipo al campus universitario americano, portare allenamenti che spero di fare con altri club in cui mi sono già messo in contatto, anche perché qui in California e anche nei campus universitari la cultura sportiva è immensa, anche le strutture sono favolose, ne ho già viste alcune così come ne avete visto alcune per quelli che mi seguono su Instagram. E quindi l'idea è di portarvi allenamenti che farò, giornate tipo, e vi farò vedere tutte le strutture, quindi dalla piscina, anzi dalle piscine, pista d'atletica, palestra, c'è veramente di tutto e di più. E poi qui a San Francisco, sono vicino a San Francisco o comunque California, fanno anche tante gare di triathlon e infatti a giugno c'è la famosa Escape from Alcatraz, l'idea è di andarla a vedere almeno. E mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere questa mia nuova avventura.